Conto alla rovescia per le prove di accesso programmato ai corsi di laurea nelle università italiane. A rompere il ghiaccio sarà martedì il test per i corsi di medicina e odontoiatria, uguale per tutti gli atenei del paese. I candidati avranno 100 minuti a disposizione per rispondere a 60 quesiti e dare così il via alla loro carriera da medico. Tanti gli aspiranti camici bianchi che tenteranno di coronare il loro sogno, molti meno invece i posti a disposizione. A Trieste e Udine ad esempio avrà accesso alla facoltà di medicina uno studente su cinque, ovvero 275 su 1331. Sono 153 infatti i posti messi a disposizione all'università di Trieste a fronte di 760 candidati. Stessa probabilità di accesso per chi tenterà l'inizio di una carriera da medico a Udine dove 571 studenti proveranno a meritarsi uno dei 122 posti a disposizione. A Odontoiatria a Trieste entrerà invece uno su tre, 30 i posti, 99 i candidati.